Scoprire chi ti ha tolto vent'anni di vita. Cosa faresti? Se tu un giorno incontrassi il tizio che ti ha sparato. E non essere preparato alla verità. Per Mick Brisgao è l'ultimo incredibile colpo di scena. Pensiamo sempre che nella vita abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ma non è assolutamente vero. Un'ultima puntata assolutamente imperdibile. Last Cop, mercoledì alle 21.15. Rai 1